2 milioni e 800 mila euro non dichiarati con un'IVA dovuta e non versata per circa 600 mila euro. Sono le cifre dell'evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara, nel cui mirino sono finite tre società a responsabilità limitata di Montesilvano e Spoltore, operanti nel commercio del tartufo, soprattutto verso il centro e il nord Italia. Nell'ambito delle verifiche fiscali sono emerse anche violazioni penali tributarie per due delle tre società per infedele dichiarazione e quindi sono scattate le denunce per i rispettivi rappresentanti legali. I finanzieri hanno trovato sul conto dei tre soggetti economici numerose anomalie e procedendo a ritroso sono arrivati a quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, verificando per alcune annualità come le società siano risultati evasori totali. Le fiamme gialle così hanno avviato tre distinte verifiche fiscali con l'attività di indagine che è stata svolta in considerazione delle quotazioni elevate del tartufo e condotta confrontando la documentazione contabile acquisita con i riscontri effettuati attraverso le banche dati. Così la Guardia di Finanza ha ricostruito le operazioni attive e passive e quindi i redditi ed il volume d'affari delle tre società dell'area metropolitana, facendo venire a galla la maxievasione.